Allora, Corrado, già avevamo iniziato a parlarne prima nella nostra viacchierata introduttiva. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo sentito parlare da tante fonti, da più fonti che questa crisi è una crisi diversa, che è una crisi diversa rispetto alle altre, hai fatto già un accenno su quelli che sono i dati storici, quello però che sicuramente non abbiamo ancora, non dico affrontato, ma sicuramente è stata data poca voce a quelli che sono gli impatti di questa crisi, che abbiamo detto, è una crisi diversa, poi vediamo diversa per quante altre cose, ma andiamo a capire proprio da questa diversità gli impatti nel concreto. Quindi, che cosa succede e quali sono le conseguenze di questa crisi sulle principali variabili macroeconomiche e sugli atteggiamenti rispetto alle politiche fiscali, le politiche monetarie delle banche centrali e quelle messe in campo proprio dagli stati? Sì, ti ringrazio della domanda perché, guarda, il presupposto oggi per fare onestamente secondo me tutto ciò consulenza finanziaria, perché come vedremo, quello a cui sto pensando insomma, da un punto di vista proprio di approccio oggi alla consulenza, anche dal punto di vista se vogliamo, non soltanto accademico, ma proprio pratico, è quello un po' di recuperare, lo vedremo, un approccio un po' si dice top down al cliente, no? Perché giustamente negli ultimi anni è stata molta enfasi all'approccio relazionale, insomma, e anche cosiddette soft skills, però nei cambi di paradigma torna fuori la competenza hard, accompagnata a quella soft, perché altrimenti poi non basta gestire le motività, non basta gestire la relazione, se poi non si offrono contenuti in un cambio di paradigma, prima o poi quello diventa un boomer anche, insomma, perché il cliente diciamo così lo perdi. E il discorso, come dicevi tu, è che fino ad oggi, dal punto di vista proprio in quella logica top down, dove uno parte dall'analisi del contesto per poi arrivare all'analisi dell'asse classe fino alla costruzione del portafoglio, perché poi avrete modo di illustrare meglio un po' il percorso, diciamo così, che abbiamo articolato, no? Partendo dall'alto, andando verso il basso. Ecco, partendo dall'alto e dal concetto macroeconomico, giustamente hai detto, diciamo, vabbè, fino adesso oramai devo dire che hai certificato il fatto che questa crisi è diversa, no? Dalla serie su Watt e allora oramai l'abbiamo capito tutti, insomma. Esatto, ma adesso, da questo momento in poi, che vogliamo fare? Cioè, perché, guardate bene, è stato un problema un po' di tutti questo, all'inizio, adesso è facile dirlo, l'abbiamo capito, ma io ricordo i primi dibattiti, dove ancora c'era ancora discussione su come potesse essere questa crisi rispetto alle precedenti e quali erano i punti di, diciamo così, di contatto. Io, guardate, vi faccio vedere un attimino, vorrei partire da risponderti da una breve situazione, guardate che ho fatto e che voglio condividere un attimino con voi. Allora, come potete vedere, io ho preparato, diciamo così oggi, una scarita di intervento che riflette un po' quel percorso di nuovo approccio alla consulenza, alla costruzione del portafoglio, che si era un po' pensato di fare, cioè, cerchiamo di declinare quell'approccio top-down andando ad affrontare alcune tematiche in maniera diversa rispetto allo storico, no? E la prima riguarda proprio quell'interpretazione sugli scenari macroeconomici, attenzione, prospettici però, perché, ripeto, io, cioè, mi capita di parlare con tanti analisti, anche fondamentali, come si chiama, no? Cioè, quello che in questo momento studiano i fondamentali, non soltanto dell'azienda, ma anche della macroeconomia e degli aspetti economici in senso lato. Però, guardate, io parto da questo presupposto, se poi vogliamo andare ad analizzare poi quella che è l'economia. Questa, guardate, non so se l'avete mai, è una società, sentite, insomma, che raccoglie dei dati qualitativi delle aziende statunitense. Qui vi porto questo grafico, dove è riportata praticamente la parola un-presented nei comunicati della società US, perché stanno facendo tutti gli aggiornamenti sulle guidance e altre cose, al di là del fatto che molti si sono rifiutati di dare guidance circa il 35% delle società, insomma, quindi su una prospettiva. Come vedete, però, insomma, siamo in una fase che non si è mai vista, in sostanza, più di 1300 volte solamente nelle ultime due settimane troviamo questa parola senza precedenti nei comunicati delle società statunitensi, che sono, insomma, abituati anche a fare un po' tutto. Io vi vorrei far vedere un attimino questo stesso dato con quello del 2008, del 2010 e 2011 che è riportato in questa slide, ok? Stavamo qui, insomma, neanche 100, tra virgolette, volte era in media citata questa parola nei comunicati e nelle guidance delle società, ma questo lo dico perché quando poi andremo ad analizzare alcune variabili di mercato che vengono utilizzate anche per essere così i detti dei leading indicators, cioè che cercano di darci una previsione su dove possa andare un settore, un'area geografica, un mercato o quant'altro, uno stile di investimento, devo dire che è un po' un azzardo morale fare questo perché molte volte stiamo confrontando le solide storie delle mele con le pere, insomma, d'accordo? E io per farvi vedere una cosa, anche da questo punto di vista, qui sono le, diciamo così, le proiezioni medie, cioè Capital Economics, semplicemente, io ho strato da lì, ha preso quelle che sono le previsioni medie sul GDP, tra virgolette, sul PIL, nei prossimi, diciamo così, nel prossimo anno, nelle diverse aree anche sul 2020, no? Io guardate, già sento in tanti dibatti di parlare ed è per carità, ci sta pure, insomma, di come potrebbe essere questa recovery, no? Perché già si inizia giustamente a parlare di recovery, visto che si guarda, e cominciano a tirare fuori tutte queste lettere, no? Che mi ricorda tanto il 2010, tra virgolette, siamo una ripresa L, A, U, A, V, W, cioè quella che io chiamo la Shape Recovery Lottery, la lotteria su come deve essere sta benedetta, sta ripresa, in sostanza. Il problema è che sono solamente lettere che servono a volte per giustificare un intervento o andare a giustificare anche una posizione, un ruolo all'interno di un'organizzazione, perché nel momento in cui non si gioca con le stesse regole non è neanche possibile fare alcuna previsione su quella possa essere la forma, la velocità di una ripresa in quanto sono soprattutto gli aspetti emotivi dei diversi attori che sono in gioco e che non si conoscono e soprattutto non si conoscono neanche quali possano essere gli impatti delle varie normative d'urgenza o delle politiche fiscali a sostegno sulle filiere anche di produzione, insomma. Quindi, in sostanza, il problema è questo, no? Perché, diciamo così, queste risposte emotive che non conosciamo da parte di tutti gli attori andranno a condizionare notevolmente, come vedremo, tante variabili che poi sono alla base dell'offerta di prodotti e servizi da parte dell'azienda che poi si raducano in utili, che si comportano, che poi si raducano in valutazioni, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista fondamentale, dai diversi practitioner che sono sulla borsa e poi si raduce in anche movimenti di asset class e di portafoglio. Quindi, alla fine, come vedremo, l'incertezza che sta in questi comportamenti, bisogna capire quanto e come verrà modulata o amplificata nella volatilità, che come vedremo troppo, tra le asset class oppure all'interno, diciamo così, di una stessa asset class, perché anche lì è una cosa che dovremo stressare e dovremo cercare di comprendere quando ha senso parlare di volatilità inter-class e quando invece parlare di volatilità inter-class, inter-asset class. Ecco, in questo momento storico stiamo in una perfetta, diciamo così, perfetta confusione, quello che dicevo anche in un altro intervento che ho feci con voi, insomma, qualche tempo fa, è quello che noi in GECO chiamiamo unknown unknown, no? Cioè un perfetto sconosciuto, tra virgolette. Questo perfetto sconosciuto, guardate, è un perfetto sconosciuto anche perché vi faccio vedere da quest'altra slide un'altra cosa. Questa, se volete, è una fotografia proprio di venerdì scorso, presa praticamente dal Center for Strategic International Studies, dove giornalmente aggiorna la mappa degli interventi di politica fiscale, risposte di politica fiscale fatti da diversi stati nel mondo, no? Oggi siamo ad un intervento fiscale che è quantificato pari a circa il 3,1% del PIL del G20, no? Già superiore a quello che era la crisi del 2008-2009, dove questo intervento era quantificato all'epoca, stava intorno al 2,5%. Il problema qual è? È che all'epoca si fecero degli interventi che erano, giusto per un attimino anche non soltanto confrontare i numeri, ma confrontare anche la qualità di quei numeri. All'epoca gli interventi erano degli interventi che servivano per andare a tappare quelli che si chiamavano i cosiddetti circuit breakers, cioè il fatto che qualcosa si era interrotto nel trasmissione, diciamo così, della finanza, tra aziende, tra banche e quant'altro. Sistemo quelli, poi si riparte. Per adesso hanno fatto solo interventi d'urgenza, che però, anche messi lì e tamponati, messi diciamo così come tampone per tanti soggetti, consumatori o aziende con diversi di cui cave a tetrare area, però sono per adesso tutti interventi che non mirano niente a minimizzare quelli che sono gli impatti strutturali e come si possa ripartire in un contesto, diciamo così, di nuove regole. Quindi se va bene qualcuno per adesso ha adappato la falla, nessuno, a volte qualcuno manco quello, per esempio noi ancora stiamo aspettando la degredazione d'urgenza da questo punto di vista, quindi stiamo anche molto indietro rispetto a tanti altri, sull'emergenza, però nessuno ad oggi ha fatto qualcosa onestamente di strutturale che possa assistere nella ripartenza. Quindi il discorso è che adesso, per farvi un esempio, i mercati finanziari hanno letto la, giustamente, la, diciamo così, l'intervento d'urgenza, quindi hanno letto il probabile, diciamo così, la probabile mitigazione dell'effetto di coda di questa crisi, ma adesso si incominciano a chiedere, ma dove stanno questi interventi strutturali per la ripresa però? E chi ne beneficerà da questo punto di vista? Perché, vedete, cioè va benissimo adesso la fine del precipizio, Deo Grazias, ma è un conto trovare, toccare forse il fondo del precipizio, è un conto capire come si risale e chi risale da quel precipizio, da un punto di vista geografico, da un punto di vista settariale, da un punto di vista di stile di investimento, se la vogliamo mettere poi in termini di allocazione di portafoglio. Diciamo che adesso manca tutta la seconda parte. La seconda parte è che nel 2008 e nel 2011 non serviva, chiaro? Perché bastava rimettere un po' di liquidità, ma la domanda c'era e non c'era impedimento sull'offerta, tra virgolette. Ecco, questo è quello che manca adesso, questa seconda fase e che dovremo leggere nel tempo, sistematicamente perché devo dire una cosa, e ne parlerò dopo perché ve l'ho messa, no? Però, guardate, io mi sono poste le domande, qui cercheremo tra l'altro, questo, nella prima pillola formativa, di dare delle risposte, insomma, compiute, anche, soprattutto, onestamente, cercando di dare anche dei tool, degli strumenti che permettano di monitorare nel tempo quelle informazioni che possono essere al servizio delle risposte a queste domande. Perché quello che mi chiedo è, ma alla fine chi pagherà il conto di tutta questa storia? Perché va bene, sto debito, 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 però, insomma, poi, prima o poi, qualcuno il conto lo dovrà pagare dal punto di vista di politica fiscale? Quali sono gli effetti sui rientri strutturali dei deficit, da questo punto di vista? Ci saranno, per esempio, sull'Europa dei modifichi ai trattati e quali saranno gli impatti sugli spread sovrani? Ma, e le conseguenze sullo stock di ricchezza e di risparmio dei consumatori? Perché poi l'economia vive di quello, eh? Cioè, io sto vedendo il Gini Index, che è un indice di concentrazione degli effetti, la stima sul Gini Index, calcolato sulla ricchezza dei paesi occidentali, che a me preoccupa molto più sul reddito che sulla ricchezza, perché sapete che una concentrazione crescente sul reddito significa che porta a una concentrazione ancora più forte sulla ricchezza. Il Gini Index sul reddito, sulla concentrazione del reddito, è stimato in aumento del 15-20% a seguito di questa crisi. Ora, questo, vogliamo volenti o dolenti, avrà degli impatti sull'economia, sui prodotti e servizi che le aziende andranno ad offrire, torniamo sempre lì poi redditività prospettica, torniamo a valutazione, torniamo a scelte di portafoglio. Cioè, non possiamo più ragionare con un'ottica veramente così di approccio olistico, vabbè, studiamo semplicemente le correlazioni, quello che può succedere a destra manca. Cioè, quelle sono cose storiche, sono cose che erano figlie dei tempi degli anni 80-90 e in parte dei primi anni 2000, già non funzionavano a seguito della crisi, col famoso risk on e risk off. Figurarsi adesso, in sostanza, cambierà completamente l'approccio alla costruzione del portafoglio. E se non si comprendono queste dinamiche e se i prodotti di investimento non saranno adeguati a cogliere queste dinamiche, si rischia, diciamo, di essere sì proattivo con il cliente, sì, di essergli vicino dal punto di vista consulenziale, sì, di gestire l'emotività, ma poi magari non in grado di dare le opportune risposte. Quindi l'aspetto, ecco perché l'aspetto judgmental, soggettivo consulenziale, secondo me preparrà. Io guardate, ho scritto un libro proprio recentemente su sta roba che si chiama la smile proprio, l'ultimo miglio. Io ritengo che proprio in questo contesto, particolarmente, oggi il consulente finanziario non è sempre stato, ma è l'ultimo miglio, tra virgolette. È quello praticamente, io dico una cosa, non so se vi ricordate la smile, l'ultimo miglio era quello che si utilizzava un gergo una volta per, diciamo così, identificare quella che era l'ultima parte sulle telecomunicazioni, no? Quello che ti portava praticamente la connessione a casa, quando ancora c'era il doppino telefonico su internet. Si parlava all'epoca di cablaggi, roba del genere, si mettevano tutto, andavi a giga come niente, sì, però poi avevi il doppino telefonico di rame e quindi poi la smile praticamente non ti permetteva più di essere efficiente ed efficace. Ecco, oggi, diciamo così, il consulente deve essere la smile, deve essere in grado di mappare al meglio quelle che sono queste domande e dare una risposta nel continuo per poter poi andare a una costruzione di portafoglio. Ripeto, cercheremo, per carità, nelle pillole del corso, soprattutto nella prima, di dare una risposta a queste cose, anche perché, guardate, io qui l'ho messa apposta questa slide, guardate, io l'ho ripresa da Yardin Analytics, ogni tanto ci collaborano, per una semplice ragione, guardate, perché l'abbiamo tenuto fuori scala apposta. Questo è l'incremento, diciamo così, del bilancio delle banche centrali in termini total assets in giro per il mondo, no? Cioè, stiamo fuori scala, tra virgolette, anche agli interventi già che sono stati fatti, stiamo, pensate, già al 40% in più di interventi rispetto al periodo 2008-2011, insomma, no? E ancora non, insomma, siamo solo all'inizio degli interventi. Ma alla fine, ma quale sarà questo nuovo confine tra politiche monetarie e politiche fiscali? Perché, guardate, oggi le politiche monetarie in realtà stanno sempre di più operando come politiche fiscali. Non mi si venga a dire che la BOJ oggi non sta facendo politica fiscale, in sostanza, nel momento in cui ti inizi a comprare titoli delle aziende e inizi ad entrare a fare delle aziende, perché vedrete, ma queste, guardate, ci potremmo mettere, forse ci posso mettere anche la mano sul fuoco, probabilmente il prossimo passo delle politiche monetarie, non certo della BCE, dove avrà delle mani un po' più strette, sarà quello di bypassare l'altro limite che si è visto di questa crisi, che è il canale bancario, che non sempre, anche per normative interne, è in grado di trasmettere liquidità immediata all'economia, e probabilmente vedremo che il prossimo passo della politica monetaria sarà quella di finanziare direttamente le aziende in certe aree, cioè quindi andare oltre all'intervento indiretto che può essere quello di andare ad acquistare titoli, oppure di dare linee di rifinanziamento marginale alle banche a condizioni di strafavoro, addirittura pagandole affinché concedano credito. E quindi qual è questo confine? Veramente anche lì, insomma, ci saranno risposte diverse tra le diverse aree, ma risposte diverse significa anche poi possibilità di adattarsi a questo nuovo paradigma in maniera completamente diversa. E chiediamoci come sta messa l'Europa da questo punto di vista, con questi benedetti trattati, con queste benedette sentenze che poi creano solamente, diciamo così, guerre istituzionali che oggi come oggi, scusate se lo dico, considerano una sorta di guerra tra poveri, tra virgolette, che ne facevamo bene a meno, insomma, tra questa storia, in questo momento storico, no? Io cosa dico allora? Dico semplicemente una cosa, che oggi, se si vuole fare consulenza proattiva in questo stato di forte incertezza, soprattutto nel futuro, bisogna recuperare un approccio top down alla consulenza. Un approccio top down, dal punto di vista hard, io parlo, delle hard skill, che richiede comunque cercare di comprendere dove si possa andare in termini prima di tutto, diciamo così, di impatti prospettici su quelle componenti che fanno l'economia in cui si sta. Io qui ho riportato praticamente alcune domande che uno, diciamo così, si deve porre, a cui deve cercare di dare una risposta, anche di questo parleremo. Poi, nella prima pillola, in merito a che cosa? Come saranno i consumi? Signori, le propensioni al consumo andranno a cambiare, questo è chiaro, ma in maniera forte. Non è che riaccendiamo l'interruttore e si continuerà a consumare come prima. Ci saranno dei capitoli di spesa che saranno favoriti e altri sfavoriti, ma è il mix qualitativo di queste propensioni che saranno diverse. Quante aziende e aree anche politiche e fiscali saranno in grado di cogliere questi cambiamenti da questo punto di vista? Quali saranno i settori più impattati? Immaginate sugli investimenti. Ok, ma quali saranno quelle aree che in termini di politiche fiscali saranno in grado di mettere in condizioni le aziende di fare investimenti a maggiore valore aggiunto? E dove il settore bancario è più debole e potrebbe essere in questo momento storico un anello debole del sistema? Io parla posando un po' Shakespeare per quanto riguarda l'Italia e tutta questa parte della degreazione di urgenza, intervento delle banche, scusate ma mi verrebbe da dire, match 2 bound half, intanto rumore per nulla fino adesso. Cioè, si è tradotto veramente in interventi di poco respiro e quelli che ho visto anche a livello Sace, c'era una pubblicità che diceva ti piace vincere facile, insomma, no? Quando fecero la pubblicità, la notizia della settimana scorsa, fatto il primo accordo, ma non dico la banca per carità, neanche azienda, con Sace, vorrei vedere, insomma, è una di quelle aziende top leader in Italia e al mondo per quanto riguarda il settore di riferimento che non ha subito shock neanche a seguito della crisi Covid. Sono d'accordo, insomma, va benissimo così, ma non è quello il problema, il problema è di chi non ce la fa. Si parla di shark fin effect, no? Cioè nel senso che oggi la crescita dei settori è più affatto a pinna di squalo, che il famoso shark fin significa quello, piuttosto che con un ciclo classico. Pensiamo a quelli che possano essere gli effetti sulla spesa pubblica, che poi ha delle conseguenze sugli spread sovrani, per carità, sull'impatto sulla ricchezza, fino ad arrivare, scusate qui c'è un refuso chiaramente, fino ad arrivare a quello che è la parte della bilancia commerciale. È ancora il driver di crescita più importante. Io ho coniato un termine, guardate, su cui sto scrivendo anche. Questo termine sembra una provocazione, ma la chiamo globalizzazione autarchica. Cioè nel senso che vediamo anche stamattina, insomma, escono notizie in continuazione di stati che cercano di blindare quelli che sono i loro punti di forza, da un punto di vista, diciamo così, proprio macroeconomico. Parlo di materie prime, parlo di centri di eccellenza e quant'altro. E vedremo che anche la globalizzazione cambierà, non sarà quella di prima. E quali saranno quelle aziende e quei settori che saranno in grado di muoversi all'interno di questo nuovo contesto. Ecco, quindi questo, diciamo così, per rispondere, e non so se ci sono riuscito un po', è per dare un po' una risposta alla tua domanda, Valentina, quello di dove andremo. Sono tante le domande, sono tante le incertezze, però guardate, una cosa bisogna farla, bisogna iniziare a porsele, ma soprattutto bisogna cercare di dare una risposta a queste domande in maniera continuativa, perché è uno scenario fluido, ignoto, non possiamo... cambia anche la frequenza, chiaramente, con il quale uno deve rivedere le prospettive e quindi anche aggiornare quelle che sono le ipotesi che fa in relazione al cliente. Questo è chiaro. Corrado, volevo farti io una domanda adesso. Prego. La mia domanda è, abbiamo vissuto l'epoca del new normal, dei tassi a zero, l'epoca che ha cambiato profondamente il modo comunque di allocare e risparmiare il denaro. La pandemia naturalmente ci sta portando, passami il termine, verso una sorta di cosiddetta new new normal. Cosa significa secondo te nel concreto questo concetto? Ma guarda, il discorso è che fra poco questi new dovremmo metterli alla n, cioè dovremmo indicarli secondo me fra poco con l'esponente, tra virgolette, no? New new normal. Ma new new normal è sicuro? Guarda, ti faccio vedere una cosa, guarda. Se vado un attimino nel secondo step, no? Che insomma, se vuoi, nella seconda pillola formativa che avevo pensato, è quello un po' il fatto che tutto questo ci porta anche a prendere, diciamo, a dare una valutazione diversa a tutte quelle informazioni che in genere vengono utilizzate per capire il termometro dei mercati, dell'economia prima e poi dei mercati finanziari, no? Ora, new new normal che significa? Guarda, posso risponderti con un grafico? Guarda, questo. Questo è il grafico a cui ti voglio rispondere. Non è... cioè, guardate ragazzi, questo qui che lo vedete è semplicemente, vi faccio vedere quello che l'ho preso da Bloomberg, che in sostanza è il tasso di disoccupazione, cioè le richieste di disoccupazione all'employment negli Stati Uniti. Ora, ma che vogliamo confrontare con il passato, no? Quando ci troviamo di fronte a queste serie storiche, che confronti vogliamo fare? Che senso ha andare a fare la solita storia, andiamo a vedere quanti crisi economico-finanziarie si sono verificate nell'ultimo secolo, quali sono state le tempistiche d'uscita, quali sono stati i settori che hanno guadagnato dopo X mesi, perché è chiaro poi che io che sono un analista di una casa, devo fare il mio mestiere, devo fare il mio mestiere, devo produrre qualcosa, devo dare delle indicazioni e quindi la prima cosa cerco di vedere cosa è successo nel passato, poteva andare bene in precedenza quando c'era all'interno di una determinata banda di variazione delle variabili, ma quando ti ritrovi una cosa del genere, ma cosa vuoi valutare con il passato? Non ha senso, no? L'ho detto, è un interruttore che si è spento e che adesso piano piano forse si riaccende, ma si è spento, punto. Siamo passati così, switch on, switch off, non è risk on, è risk off, è stato switch on e switch off sull'economia. Io qui vi riporto altri esempi, ma guardate, ne ho presi tantissimi, ne ho presi un po' in giro per, diciamo così, per le aree geografiche e per, se vogliamo, anche impatto sugli elementi macroeconomici, no? Da Shanghai all'attività ai porti di Shanghai, all'attività sulle registrazioni di auto nel mercato statunitense, vogliamo parlare degli indici PMI, sui purchase manager index, no? Perché vengono tanto utilizzati per, ma che senso ha guardarli adesso? Oppure il trading sul textile, vi riporto qui anche, guardate, la produzione di steel, insomma, negli Stati Uniti, retail sales, le vendite al dettaglio. Signori, stiamo in un cliff effect da questo punto di vista. Non è, diciamo così, utile guardare nel passato quelle che possono essere anche le dinamiche, perché semplicemente ci dicono, cioè ci continuano ad attestare quello che già sappiamo, che questa crisi è diversa, ma non ci dicono niente di come poi evolverà il mercato. È una sorta, se vogliamo oggi, di certificazione, questo che vedete, ex post, di quello che tutti avevamo compreso 15 giorni dopo che c'è stato il lockdown in giro per il mondo, d'accordo? Non ha senso, serve soltanto, sarà storia questa, cioè nel senso che faranno questi grafici qui, entreranno nei libri di storia economica, perché lo vedremo come una cosa che non è successo mai da quando esistono queste serie, punto. Se poi servono a qualcosa per fare previsioni, soprattutto sulla locazione di portafoglio, onestamente no, quello non ne sono veramente convinto. Io guardate, qui ho provato, tra virgolette, a indicare quelle che ci stiamo confrontando in questi giorni, su quelle che possano essere delle linee guida che eventualmente andremo ad approfondire anche lì, nella pillola formativa dedicata, insomma, cioè, è quello uno. Dimentichiamoci il confronto con le alte crisi, quello è il punto di partenza, guardate. Perché, tra l'altro, quando si analizzano le crisi e quando si vanno ad interpretare quelli che sono i vincenti e i verdenti, si entra in quello che si chiama, in gergo, il problema del subvivo ship bias. Cioè, tutto ti sembra più bello, perché semplicemente i dati poi, soprattutto in merito a quelli che sono le performance di mercato di alcune asset class, si va a privilegiare, o come si vede solamente, quello che è, diciamo, così sopravvissuto. Se vi permettete un esempio banale per farvi comprendere un po' la situazione, è un po' come quando si intervista, trovate l'intervista di quello che era emigrato, perché se ne era andato nella spiaggia caraibica ad aprire il localetto e aveva fatto fortuna e aveva abbandonato, tra virgolette, la sua vita quotidiana. Vi fanno vedere quello, non vi fanno vedere, però, magari poi diecimila persone che ci hanno, diciamo, sbattuto la faccia e che quindi non hanno avuto successo, no? Si chiama subvivo ship bias alla fine della fiera. Quindi andare a rileggere quello che è successo, soprattutto sui vincenti delle serie passate, delle crisi passate, si rischia di cadere in quella trappola, no? Quindi bisogna semplicemente concentrarsi su quelli che sono i nuovi modelli economici che emergono e dovremo cercare di capire nel tempo quali saranno le nuove variabili di sintesi economico-finanziarie che avranno una valenza nel descrivere i nuovi fenomeni, d'accordo? Perché vi ricordo che tutte queste variabili sono costruite, anche dal punto di vista, se vogliamo, statistico-econometrico, su un'economia che fu, anche strutturale. Quindi non necessariamente, anzi, sicuramente non sono adatte per capire, per capire quello che succederà da questo momento in poi. Quindi magari ci accorgeremo che fra 3, 4, 5, 6 mesi sarà una variabile diversa a quella che è in grado di spiegare la tendenza di un settore, di un asset class. Però dovremo monitorare costantemente un po' tutto, un quadro di provider e di fornitori di queste variabili per capire quelle che nel tempo saranno veramente discriminanti. E quindi passare ad un'analisi di natura prospettica di queste informazioni. Perché, come dico sempre, guardate, io qui ho riportato l'ultima fotografia veramente dei leading indicators dell'OX, dell'OICP, che vedete sono così, fatti così bene. Ma io guardate, sapete una cosa? Li ho proiettati e li ho sorapposti a quello che è il ciclo economico. Sapete qual è il problema dei leading indicators storico questo? È che non sono leading. Cioè, praticamente, più delle volte ti fanno una fotografia di quello che è o di quello che è stato. In questo momento, specialmente, questi indicatori sono costruiti con delle logiche che non catturano minimamente quello che possa essere la risposta del mercato e del mondo economico a questa crisi. Ecco perché dico, dovremo cercare di riscoprire nel tempo un nuovo set di informativo che sarà in grado di spiegare le dinamiche prima dell'economia ma poi anche dei mercati finanziari. Perché vedremo che nel tempo, dopo questa fase, vedrete che si vivrà di reazioni completamente diversi dei mercati a quelle che sono i newsfloss delle notizie a cui siamo abituati. Vedremo che reagiranno in maniera diverso ai dati sulla disoccupazione, sui PMI. Vedremo che ci saranno risposte a causa-effetto completamente diverso perché si incomincerà a comprendere nel tempo qual è l'impatto o il non impatto di determinate variabili. Quindi uscire da queste logiche. Eccolo il new normal, se vogliamo. D'accordo? Scusami, è arrivata anche una domanda dal signor Massimo che ti chiede. Quindi il succo del discorso è usare i fondamentali nella costruzione del portafogli, giusto? In questo momento storico diventa fondamentale recuperare i fondamentali perché basarsi sulle correlazioni e le costruzioni storiche, dal punto di vista quantitativo, è forviante perché tutte quelle matrici di correlazione che sono alla base della costruzione dei portafogli e della diversificazione le possiamo far mandare a benedire perché sono figli di un'economia che fu e di una relazione di mercato che furono in sostanza. Quindi eccolo perché l'approccio sarà top down e vedrete che nel tempo anche le case proporranno via via anche prodotti diversi e anche la modalità di costruzione saranno diversi. Vedrete che anche il calcolo del rischio e anche la gestione dello stesso sarà diversa rispetto al passato e sarà vincente chi sarà, prima degli altri, sarà in grado di interpretare quelle che saranno le nuove correlazioni. Nel frattempo quello che conterà molto sarà il recupero fondamentale, la dinamica fondamentale di queste variabili. Ci dovremmo concentrare sempre di più sull'aspetto congiunturale, cioè sulla variazione nel tempo di queste variabili piuttosto che su quella tendenziale storia che non serve a niente perché dicevamo stiamo confrontando mele e coppere. Quindi sì, recupero enorme di quello che è l'aspetto fondamentale nella costruzione dell'asset allocation, assolutamente sì. Fino a quando non saremo in grado di recuperare in maniera più strutturale quelle che sono, diciamo così, le dinamiche quantitative che stanno dietro alle matrici di varianza e covarianza che sono alla base della costruzione dei portafogli, diciamo così, con tutti i suoi di cui, per carità, tutte le sue variazioni econometriche, insomma, della finanza moderna, se così lo vogliamo interpretare. Ti faccio questa domanda, Corrado. È ovvio che in un momento come questo abbiamo assistito ad un aumento sistematico della volatilità sui mercati e sappiamo che questo fenomeno poi ha una grande incidenza nelle fasi ovviamente di grande incertezza. Quali sono, secondo te, le variabili che bisogna cercare di monitorare costantemente nelle asset class nel prossimo futuro? Allora, guardate, la domanda è chiaramente interessante per quale motivo? Perché stiamo andando sempre di più verso quell'approccio, diciamo così, dall'approccio top down stiamo scendendo, gradualmente stiamo andando verso quella che, se vogliamo, è la costruzione del portafoglio che passa prima, tra virgolette, per l'allocazione delle asset class, tenuto conto di tutti gli aspetti che voi ben conoscete sul cliente in termini aspettative, rischi, o risparmio, orizzonte temporale, insomma, le solide cose. Questa allocazione di portafoglio è chiaro che la volatilità sarà un driver importante, però il problema è questo, no? Perché pure qui è un approfondimento importante della pillola, insomma, questa qua è, l'ho riportato così, tanto giusto la conoscere tutti, insomma, è il benedetto VIX, no? Che sintetizza la volatilità, se vogliamo, truss e class. Ora, il discorso che è, qual è? È che dobbiamo distinguere volatilità e volatilità, nel senso che la volatilità starà, sicuramente, lo è sempre stata, ma sarà ancora di più dietro a quella che è la costruzione di un portafoglio. Ma dovremmo distinguere tra questo tipo di volatilità che state vedendo, perché questo tipo di volatilità che state vedendo rileva nelle fasi risk on e risk off, cioè, in sostanza, mi fa capire quando è il caso di non investire, di non diversificare, o quando invece posso costruire, tra virgolette, un portafoglio. E sarà l'espressione, eventualmente, di che cosa? Di una possibile fase di ondate successive di questo benedetto Covid-19, cioè, è chiaro che se dovesse ciò essere delle successive ondate abbastanza importanti di questo virus, potremmo tornare a questa situazione, come potremmo tornare in questa situazione se ci dovesse essere qualche grossa crisi a livello, ad esempio, di rischio sovrano, insomma, no? Che potrebbe mettere in difficoltà un'intera area economica, tra virgolette. Ma, sapete, questo tipo di volatilità ci dice poco sulla relazione di volatilità, ci dice investo o non investo, no? Quello su cui, invece, dovremmo essere molto più attenti, da qui in avanti, è che è un altro tipo di volatilità, è la volatilità all'interno delle asset class. Perché? Innanzitutto cambiano le correlazioni, vedremo che cambieranno molto le correlazioni tra le asset class, ma cambierà ancora di più la correlazione tra gli elementi all'interno delle asset class. Per quale motivo? Ma il motivo è molto semplice, no? Io vi faccio vedere, questa è una correlazione dello Standard & Poor's 500 con l'indice di Barclays e US Aggregate, che fa vedere tutte le altre asset class, tra virgolette. Una correlazione che era praticamente prossima allo 0 prima, adesso è diventata a 0,79. Cosa significa? Quella fase si chiamo io di volatilità di breakdown. Cioè, quando quella volatilità la vedete alta, del VIX, è chiaro che c'è una sorta di sell-off dove tutti vanno nella stessa parte, ma lì che diversificazione di portafoglio vuoi fare? Non ha senso. La correlazione tra asset class ci dirà semplicemente quando c'è risk-off o c'è risk-on, tra virgolette. Il problema è un altro. Il problema è quale sarà invece come gestire il risk-off nel post-covid. Cioè nel momento in cui non siamo in quella fase di crisi acuta, come fare asset allocation, come gestire l'asset allocation, tenuto conto che la volatilità da prendere in considerazione è un'altra, è quella all'interno di ogni asset class. Per quale motivo? Perché nel momento in cui cambiano le regole del gioco, chi risponderà? Risponderà in maniera diversa. E significa che all'interno della classe classe bond, forex, arte, all'interno dell'azionario, ci saranno vincitori e vinti, tra virgolette. E vedremo quindi che magari anche a livello di indici potrebbe anche arrivare il fatto che alla fine di un anno ti ritrovi con un indice che ha fatto una performance molto piatta, ma all'interno di quell'indice ci saranno dei grandi vincitori e dei grandi perdenti. Molto di più di quello che abbiamo visto nel passato. Cioè in sostanza la fase quella che qualcuno chiama sull'azionario dello stock picking, della selection, eccetera, eccetera, prevarrà da qui in avanti perché cambiando le regole del gioco ci sarà chi sarà in grado di adattarsi e chi no. E quindi come vedremo qua sotto, il value at risk sulle code sarà sempre più importante per capire chi sarà nella coda positiva e chi sarà nella coda negativa in termini di outlier. E infatti questo porterà, tra virgolette, ad altri tipi di domande da cui cercheremo di dare delle risposte. E sarà questo, prevarrà la gestione attiva o passiva delle asset class in questa nuova fase. E come si comporteranno anche gli hedge fund, gli alternative investments, che però avranno, c'è ancora la possibilità effettivamente di essere ortoconali oppure ci saranno nuovi elementi che permetteranno di identificare delle asset class ortoconali o delle strategie di mercato ortoconali. E quali saranno le nuove regole di diversificazione tra asset class? Perché cambieranno completamente, lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Le regole storiche sono cambiate, sono cambiate anche quelle a seguito del che avevamo ormai certificato rispetto alla crisi del 2008-2011. Ma per una semplice ragione, e l'ho scritta lì, che abbiamo avuto una crisi che è stata simmetrica, ma le risposte sono asimmetriche, non sono tutte uguali, da parte prima delle aree economiche, con le politiche fiscali e monetarie, ma anche delle aziende. Queste risposte asimmetriche a una crisi simmetrica provocherà questa situazione di cui abbiamo parlato adesso, in sostanza, e quindi una necessità di essere ancora più attenti a questi elementi e una proattività maggiore nell'attenzionare queste dinamiche e queste domande che ho lì riportato, in sostanza. Questo è un po' il discorso sull'asset allocation e la volatilità, tra virgolette, che dovremo sempre di più analizzare. È arrivata una domanda da Lucio. Lui ti chiede, come si spiega allora questa forte divaricazione in termini di valutazione fra titoli value e growth che si è accentuata in questa crisi? Ci sarà quindi una forte rotazione settoriale o sarà ancora diverso? Bella domanda. Guarda, io ti posso dire una cosa. Mi apre una cosa questa. Sono contento di questa domanda perché mi apre, tra virgolette, all'ultima fase. rispondo subito a Lucio con una slide e gli rispondo. Gli rispondo con una slide che avevo messo qui proprio nell'ultima parte, che poi è una delle ultime pillole del percorso che avevamo identificato dove si cerca di guardare gli elementi di gestione proattiva del portafoglio in uno scenario di incertezza. Guarda, la slide è questa. Sullo style effect. Guarda, proprio cade a faccio. Nel senso, ma caro style effect, io scrivo lì, dove sei? Perché, guardate, io qui, vabbè, voi mi dite se ha fatto meglio il value, ha fatto meglio il growth, va benissimo. Però guardate, io qui riporto quello che sono state aggiornate al primo di maggio, quello che è, in sostanza, il rendimento sugli stili tenuto conto di quelle che sono le classificazioni Morgan Stanley, Corporate Investing, quindi l'MCI, d'accordo? Va benissimo, per carità, dall'inizio dell'anno, quindi tenuto conto dei due mesi e passa di economia, più o meno, dove i mercati la vedevano, comunque la crisi c'era, il Covid c'era, ma insomma sembrava che non fosse un problema globale, dove effettivamente, diciamo, le differenze tra quelle che erano le performance, tra value, growth, core, sia per le large, le medium, le small, c'era, si vedeva, si vedeva. Ma nell'ultimo mese, dove sta sta risposta allo stile? Scusate, perché io vedo che nell'ultimo mese, alla fine, lì vedo sempre cifre molto simili, in sostanza, su quelle che sono i rendimenti math to date, quindi di aprile, di tutto aprile. Anche perché il problema è, il problema è, voi conoscete le regole, no? Che stanno dietro la costruzione di che cos'è un benchmark value, che cos'è un benchmark growth, e poi anche qual è magari la declinazione, se vogliamo, di un prodotto di investimento value growth, che può rifarsi a quel benchmark, ma può avere però una strategia di selezione anche leggermente diversa, no? Per quanto riguarda la costruzione del portafoglio. Ma io oggi vi faccio sta domanda, ma scusate, che cos'è growth e che cos'è value? Me lo dite? Siamo in grado di dare questa risposta? Cioè, mi sapreste dare una definizione oggi di che cos'è un titolo growth? È quello che c'ha la crescita degli utili del 30%, è quello che è un unicorno? E che cos'è un titolo value? Quello che c'ha il book, il price to book molto basso, o quello che c'ha un book value elevato? Cioè, ma che significa? Che significa? Cioè, dovremmo anche rivedere, Sapete, signori, forse la crisi quella passata, non voglio essere adesso cattivo, ma la crisi, quella del 1900, della crisi internet, fece cadere un mito che si chiamava Alan Greenspan. Ok? Forse questa crisi farà cadere anche l'approccio di investimento di qualcuno che era considerato un oracolo, tra virgolette, che aveva questa strategia di investimento, tra virgolette, più o meno stabile. Si è visto anche delle, diciamo così, dai risultati degli ultimi, delle ultime settimane. Cioè, vedremo che questo stile effetto cambierà. Cioè, vedremo che proprio perché ci sarà quella forte volatilità intra-ass e class, con diverse risposte a diversi soggetti, si stanno riscrivendo anche le regole di che cos'è value, di che cos'è growth, ma di che cos'è uno stile di investimento. Oggi. Oggi ci sarà lo stile investimento di risposta positiva allo scenario Covid? Cioè, probabilmente, arriveremo a prodotti di investimento che ci diranno, guarda, abbiamo selezionato quelle aziende che stanno in quei settori, ma soprattutto che all'interno di quei settori ci sono dimostrati proattivi nel cogliere il cambiamento di paradigma. Cioè, vedrete che adottare e continuare, magari a gestire il portafoglio, con gli style effect, a cui siamo abituati finora, al momentum, di qua, di là, sotto sopra, probabilmente, insomma, dovrà essere riscritto anche quello. Perché se cambia quello che sta sopra a livello macroeconomico, di conseguenza, poi cambia anche la sintesi quantitativa, la costruzione del portafoglio di queste cose. Ok? E quindi vedremo delle rotazioni di stile. Rotazioni, ma non solo, anche le caratteristiche saranno completamente diverse di questi stili. Anche di questo cercheremo di dare risposta, insomma, nel, diciamo così, nella pillola che andremo a vedere. Anche perché, guardate, qui per farvi capire, mi sono posta questa domanda a un certo momento, no? Ma la fase che c'è stato il rimbalzo, no? Che c'è stato del mercato a un certo momento, che adesso è un po' sfumato, tra virgolette, stiamo lì in una fase laterale, se vogliamo, come si dice in gergo, ma è stato frutto di overconfidence o overreaction? Cioè c'è stata un overreaction troppo prima oppure dopo c'è stata un overconfidence su quella che possono essere ripresa? Perché guardate, se proprio devo fare un confronto storico e facciamolo a un certo momento, qui andiamo a vedere quella che è la performance relativa dei ciclici rispetto ai settori difensivi comparati con gli altri momenti di crisi. Cioè, in questo momento storico i settori ciclici hanno performato in termini su quelli difensivi molto meglio rispetto alle crisi storiche. Ma allora che significa? Significa che il mercato in questo momento sta incorporando delle aspettative di crescita, se vogliamo, sugli utili, che sono superiori rispetto a quello che è successo nelle altre crisi. È proprio così. Stiamo forse in una fase di overconfidence in questo momento. Non è, o forse non è che stiamo leggendo male quello che è ciclico e quello che oggi è difensivo. Perché pure lì ancora possiamo parlare di titoli difensivi che saranno ancora difensivi e titoli ciclici che sono ancora ciclici. Cioè, io l'ho visto negli anni, cambiamenti di quelli che sono gli stili settoriali. Ho partecipato anch'io insomma alla costruzione dal punto di vista anche quantitativo di questi benedetti stili. Anche quello che facevo quattro anni fa non è sicuramente uguale in termini di costruzione di stili quello che facevo quindici anni fa, no? Cioè, io faccio un esempio banale. Anche i settori storici sono cambiati dal punto di vista dello stile e della correlazione all'economia. Sapete, negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, non so, per farvi un esempio, il settore, quello dei trasporti, era considerato un cosiddetto early cycle. Cioè, un settore che anticipava il ciclo macroeconomico. Perché? Perché se si prevedeva che dovesse andare tutto bene, le aziende acquistavano prima materie prime, rifacciamo le scorte, se invece va male, insomma, diminuiscono gli acquisti tra aziende, e quindi andava giù prima della domanda effettiva perché ragionava sulle aspettative della domanda ai direttori di acquisti dell'azienda. Oggi questo non è più vero. Perché? Perché ti cambia il paradigma. Si compra soprattutto il retail, il 60-70% è fatto online. Oggi, più del 60% delle revenues, dei trasporti, è fatto con quelli che ti consegnano nella smile, a casa, in sostanza. Perché è cambiata il modello di consumo. Quindi, quel settore non è più considerato un early cycle. È un settore che non mi dice più niente sul ciclo. Tra virgolette. Ecco, in questo momento storico abbiamo questi cambi di paradigma a go-go. E quindi anche di stili a go-go. E dovremmo cercare di adattarci un po' a questo, no? Faccio vedere questo, per esempio, no? Ma sta veramente tutto nelle aspettative. Io, guardate, ho preso questo grafico, molto semplice. Qui siamo in una crisi che era asimmetrica, 2009. Questa è una crisi simmetrica. Questo era il, diciamo così, prima il buco e poi il rimbalzo sulle aspettative, diciamo così, di utile per azione, di earn it to share sul mercato statunitense in quel periodo. Qui stiamo qui. Quello che è successo. Vi faccio notare semplicemente che in questo momento storico il mercato incorpora sulle aspettative degli utili per azione un valore che è il doppio rispetto a quello passato alla crisi del 2008. quindi, ma sarà proprio così? O comunque tutti saranno veramente in grado di mantenere quel livello di aspettative sugli utili che erano del 2017? 2017? Anzi, di metà 2018? Questa è una domanda che vi faccio, tra virgolette, per capire oggi quanto si naviga a vista sul mercato. Cioè, nel senso che oggi ancora devono essere incorporate, anche dagli analisti, tante, tante guidance che nel tempo saranno sempre più chiare e ci diranno veramente chi saranno i winner e i losers dai diversi asset class perché questo vale per i bond, vale per il forex, vale per le soft commodities, vale per le hard commodities, no? Perché pure lì ci sarà un cambiamento epocale perché i consumi andranno ad impattare sulle soft commodities, i consumi delle aziende andranno ad impattare sulle hard commodities in una maniera fondamentale. Quindi, alla fine, ecco, un mondo, un mondo, diciamo così, un po' completamente diverso dove le risposte che cercheremo a dare sono queste, no? Ma i prodotti di investimento saranno ancora espressione, saranno in grado di esprimersi e di rappresentare nuovi stili? Perché è su quello che si baserà, se vogliamo, le nuove scelte di investimento e quanto sarà importante, come dicevamo prima, recuperare questo approccio bottom up nell'allocazione delle scelte di investimento e come cambierà poi la diversificazione del portafoglio dovuto conto del new normal di cui abbiamo parlato, no? E queste un po' sono le ultime considerazioni e le ultime domande a cui cercheremo di dare risposta a una delle ultime pillole formative su cui comunque vorrei anche fare un di cui che qui non ne ho parlato perché abbiamo preso in considerazione anche un altro elemento in questo percorso che è il fatto che oggi quando si gestisce un cliente a volte magari si trovi a gestire anche un cliente imprenditore o che ha un'attività e lo devi gestire in termini quasi di family office e oggi il problema di un consulente è quello anche di mediare quelle che sono le esigenze di portafoglio di ricchezza diciamo così del cliente ma anche quelle che sono se vogliamo le necessità di liquidità per la propria attività anche se vuole la decretazione di urgenza e magari saper leggere bene quelle che sono le opportunità previste da le varie decretazioni di urgenza al servizio della liquidità aziendale e saper consigliare bene permetterebbe magari a quell'imprenditore di non andare a sacrificare il portafoglio per curare i propri buchi diciamo così di liquidità e quindi oggi la capacità oggi di un consulente soprattutto sia di stampo family office è anche quello di sapere interpretare e guidare l'imprenditore assisterlo magari anche nel recupero di quella finanza se vogliamo che al servizio dell'attività proprio perché questa liquidità non venga invece presa dal portafoglio di investimento e quindi parleremo in un'ultima pillola formativa anche di questo insomma che è estremamente importante e attuale in questo momento storico Ti volevo chiedere in chiusura perché qualcuno già ci sta salutando perché ha riunioni interne ti volevo chiedere in chiusura una breve sintesi dei cinque punti degli argomenti che saranno affrontati nel percorso così posso anche condividere lo schermo come no se devo andare ecco a ritarare un po' il percorso è chiaro che è stato scritto proprio per guidare il professionista della consulenza finanziaria lungo questo nuovo approccio top down e quindi nella prima pillola andremo a vedere un attimino quali sono le risposte a quelle domande sugli scenari macroeconomici e sulle risposte politica fiscale monetaria è quando entranno ad impattare sulle principali componenti diciamo così che poi fanno la ricchezza di un'area di un paese e che poi si traducono in economia e quindi poi in finanza mentre invece nella seconda lezione cercheremo ecco di vedere di dare una lettura un po' più aggiornata e cercare di comprendere quelle variabili economiche di mercato che possono essere che possono significare diciamo così la scelta o non la scelta l'investimento quindi cerchiamo di comprendere quelle che sono le nuove variabili che sono alla base dell'analisi dei mercati delle tendenze e poi anche per quanto riguarda l'allocazione di portafoglio perché poi nella terza pillola ci concentreremo soprattutto sulle dinamiche delle asset class come cambia come cambia in un contesto di alta volatilità come andare a vedere nel tempo le correlazioni come cambiano e le diverse reazioni in una fase di bound di rebound dal punto di vista macroeconomico che però sarà simmetrico per poi concludere la parte diciamo hard proprio sulle risposte ancora qui a quelle domande di proattività di costruzione del portafoglio tenuto conto di tutto quello che ci siamo detto in precedenza e per concludere poi l'ultima pillola proprio su come assistere l'imprenditore colui comunque che ha un'attività nel cercare di complementare la finanza di impresa con il portafoglio finanziario cercando di dare delle indicazioni su come assistere l'imprenditore nell'accedere nel gestire al meglio tutti gli strumenti di creazione d'urgenza mette a disposizione per entrare diciamo così nel diciamo nei canali di finanziamento per non sacrificare diciamo così quello che è il portafoglio di risparmio ecco questo in sintesi il percorso ecco sono stato molto sintetico perché io ti ringrazio anche a nome di professione finanza Corrado per aver messo a nostra disposizione a disposizione di consulenti che ci seguono la tua la tua expertise la tua esperienza la tua conoscenza per aver creato con noi questo percorso che trovo essere assolutamente utile e necessario in un momento come questo riceverete ovviamente le slide della puntata di oggi tutti i dettagli per poter descrivere al percorso Out of the Class che abbiamo pensato con Corrado Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti